Un saluto da Ivan di Paco Digit, ci troviamo presso la Stockhouse di Milano in Corso Sempione per una prima presa di contatto con il nuovo Google Nexus, il nuovo Google fonino, telefonino prodotto da Samsung per conto di Google, telefono che ha la peculiarità di essere il primo a montare la nuova versione del sistema operativo Ice Cream Sandwich 4.0. Vediamo brevemente le caratteristiche del telefono, telefono con display da 4,65 pollici di diagonale, 1280x720 pixel, un pannello Super AMOLED a 16 milioni di colori, veramente bellissimo da vedere. Nella parte frontale del telefono troviamo questi nuovi tre tasti a sfioramento, tasto di ritorno e tasto home che sono distilizzati, questo nuovo tasto invece va a sostituire, va a integrare il multitasking, quindi vedremo gli ultimi programmi aperti tenendolo premuto, prima invece bisognava tenere premuto la casetta in maniera continua. Nella parte alta troviamo foto videocamera che permette di eseguire video telefonate e eseguire scatti da 1,3 megapixel, ci sono anche sensori di prossimità e di luminosità e naturalmente la capsula auricolare. Nella parte destra del telefono troviamo il tasto di accensione, questi connettori che permetteranno di collegare il Nexus a degli accessori, presa da 3,5 mm, microfono, presa micro usb per connettere il telefono al pc o per la ricarica e sulla parte sinistra bilanciere del volume. Parte posteriore con questo cover plastico zigrinato, fotocamera da 5 megapixel con autofocus e led flash, la fotocamera permette anche di girare il video a 1080 punti. Qui troviamo l'altoparlante di sistema, c'è anche una batteria da 1740 mAh e lo slot per la sim card. Non è presente uno slot per la micro sd telefono dotato di 16 giga di memorie interne che purtroppo non sono espandibili. Il cuore del telefono, come dicevamo, oltre al citato sistema operativo in versione 4.0 è un processore dual core da 1,2 gigahertz assistito da 1 giga di ram e appunto con 16 giga di memoria interna. Vediamo brevemente qualche novità, almeno quelle più evidenti del nuovo sistema operativo. C'è questo nuovo sfondo, ci sono le classiche 5 paginette da poter personalizzare, si vede immediatamente una rivisitazione grafica. Andiamo a vedere un attimo il telefono per esempio. Il telefono è stato cambiato nel layout, nella parte grafica, ci sono tre tasti, prima ce n'erano quattro. Abbiamo la parte telefonica che non è dotata nativamente di ricerca intelligente. Abbiamo qui l'elenco delle chiamate, la cronologia, abbiamo il tasto per vedere i nostri contatti preferiti. Qui c'è quindi proprio una rivisitazione grafica della parte telefonica. Telefono che funziona bene sia come ricezione, la capsula auricolare diciamo che è nella media. C'è forse qualcosa di meglio ma va piuttosto bene. C'è questa nuova icona che riguarda i contatti, anche questa è stata leggermente ristilizzata. Possiamo vedere anche subito un'altra novità. Questi 5 tasti di base possono essere tutti quanti personalizzati, almeno i 4 tasti possono essere personalizzati. Una cosa interessante è che trascinando un'icona e sovrapponendola a una esistente verrà creata una cartella all'interno della quale troveremo i due programmi che abbiamo deciso di inserire. Qui avevamo il programma di gestione dei contatti, abbiamo aggiunto la fotocamera, troveremo questa cartella che li contiene entrambi. Se non li volessimo più non facciamo altro che tenere premuto sull'icona che abbiamo trasportato e la cartella verrà eliminata e ritornerà soltanto l'icona che avevamo all'inizio. Questa operazione può essere anche eseguita dalla cartella delle applicazioni. Ne prendiamo una a caso, la possiamo trascinare o in una delle 5 pagine principali oppure al posto dell'icona che vogliamo sostituire. Sempre parlando della cartella dell'applicazione troviamo queste 3 nuove pagine. Nella cartella dell'applicazione abbiamo tutte le applicazioni, sia quelle preinstallate che quelle che aggiungiamo. Nella seconda pagina potremo trovare i widget, widget che differentemente da prima, vedremo l'anteprima, teniamo premuto e li potremo parcheggiare poi su una delle nostre home page. In questo caso ho preso un widget un po' ingombrante quindi non me l'ho accettato. Ci sarà una terza pagina che riguarda il market. Vediamo qualche programma brevemente, il calendario è stato leggermente ristilizzato, anche lui è il calendario nativo, è stato ristilizzato, compositore vocale. Ecco qui si può vedere l'icona del flash player che è stato aggiunto, è stato distribuito proprio ieri da Adobe, quindi anche il browser supporterà totalmente la versione 11.1 di flash player. Comando della fotocamera, la galleria, casella di posto elettronica. Nella casella impostazioni si può vedere anche qui la rivisitazione grafica che ha subito il sistema operativo, è molto più elegante, molto più definito di prima. Abbiamo il market, il messenger, naturalmente il google maps, il google navigatore con un gps che ha una sensibilità molto molto valida. Andiamo un attimo a vedere il browser. Qui c'è già precaricata la nostra pagina. Clicchiamo su una notizia. Ecco, il browser secondo me è uno di quegli elementi che ha più beneficiato dell'aggiornamento del sistema operativo. Io trovo che sia fulminio nell'aprire le pagine e nella riformattazione. Un'altra cosa importante è che rispetto a prima potremmo impostare la modalità desktop in maniera permanente nella visualizzazione delle pagine. Prima venivano precaricate sempre in modalità mobile e poi dovevamo fare lo switch posto che il sito ce lo consentisse. Adesso possiamo chiedere che il telefono venga visto dalla rete come se fosse un computer. Detto questo, ribadisco come ho fatto altre volte che il browser di Android secondo me ha raggiunto una qualità di navigazione eccezionale. Che altro si può dire? Parlando della fotocamera, le immagini sono buone, con condizioni di luce ottimali, ma sono valide anche all'interno. Il flash funziona abbastanza bene, idem per quello che riguarda i video. Cosa dire? Il telefono secondo me è molto bello esteticamente, anche abbastanza ben costruito. Trovo che Ice Cream Sandwich rappresenterà sicuramente un'interessante evoluzione del sistema operativo di Android. Io ho trovato particolarmente interessante l'evoluzione del browser, veramente molto molto veloce. Bene, per questa prima presa di contatto con il nuovo Nexus è tutto. Un saluto da Ivan e alla prossima!